cari amici questo è il mio più grande augurio di natale il regalo che vi voglio fare è un abbraccio un abbraccio completo un abbraccio generale ecco la cosa più bella che si può regalare è la semplicità la libertà l'uguaglianza è il sorriso è la gioia è la felicità e la felicità è un po dentro tutti di noi quindi auguri e a presto io lo sapete sono babbo natale vero quindi vi saluto molto contento a chi di voi mi vuole telefonare a qualsiasi ora di oggi o di domani mi troverà al mio solito numero 3 3 8 5 4 6 5 3 0 1 ed io sarò contento di darvi personalmente uno uno i regali le perle i giochi i sorrisi di babbo natale auguri